Ancora due vittime, ancora due donne, una 75enne di Colletorto deceduta al Neuromed ed una 81enne morta al Santimotio di Termoli. Si aggiungono ai cinque decessi di ieri. Le vittime avevano 62, 67, 71, 74 e 87 anni. I decessi in Molise per Covid sono 409. Altro dato preoccupante è quello relativo ai ricoveri. Dieci e nessun dimesso. Il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 113, 75 al Cardarelli, 65 malattie infettive, 9 in terapia intensiva, 24 nell'area grigia del Santimotio di Termoli, 3 al Gemelli, 12 al Neuromed. In rianimazione si trovano 17 pazienti e ancora i contagi. 77 su 1.204 tamponi refertati e tasso di positività al 7,5%. I Elsie il centro più colpito con nove casi, 8 a Santa Croce di Maiano, 7 a Isernia, 6 a Campobasso. I guariti di giornata sono 113, con il numero degli attualmente positivi che scende a 1.488. In isolamento si trovano infine 3.506 persone.